La novità della trippa 2020, quest'anno ci presteranno un grandissimo pentolone che arriverà direttamente da Moncalieri e che ci consentirà di preparare in una sola notte ben 24 quintali di trippa. Diciamo che è la grande novità perché fino all'anno scorso ci siamo appoggiati alle cucine dell'ospedale che da quest'anno però non possiamo più utilizzare perché hanno subito degli adeguamenti normativi e quindi hanno tolto i pentoloni che utilizzavamo per la realizzazione di questi grandissimi quantitativi. Un'altra grandissima novità è che la Croce Rossa ci supporterà, ci sarà questa bellissima collaborazione con l'Associazione della Croce Rossa. I volontari della Croce Rossa e i volontari della Proloco collaboreranno per la realizzazione di questa storica manifestazione che oramai da più di 35 anni anima la giornata di San Bassiano. Speriamo che tutto possa andare nel migliore dei modi, faremo questo primo esperimento. Un ringraziamento a tutti i volontari, anche alla Protezione Civile che ci supporterà e alla Croce Rossa per il grandissimo sforzo che fa per incoraggiarci in questa non semplice missione.